Liberazione ma c'è anche la questione migranti, quindi l'accoglienza, si è parlato qui di democrazia, si è costruita questa democrazia su determinati valori e ora forse si fa fatica ad applicarli? Ma non so se facciamo fatica ad applicarli, certamente siamo un paese che è accogliente e fa bene. Certo abbiamo chiesto più volte all'Europa una mano in più perché da soli non ce la possiamo fare e l'Europa in parte ci ha anche risposto, non siamo contenti, vogliamo di più ma è giusto che sia così. Certo i nostri sforzi non si fermano, il governo darà una mano perché è giusto che sia così, fa parte del nostro DNA e quindi credo che sia una cosa più che giusta.